Andiamo in Sicilia, precisamente nel bosco di Salaparuta, che bosco avrebbe vissuto una strega. Una volta che fu scacciata dal bosco lo maledisse, quindi la credenza popolare del posto dice che per attraversare un bosco si dovrebbe farlo in tutta fretta affinché si venga rapiti o presi da forze spiritiche. Quindi se siete lì in vacanza attraversate i boschi correndo, grazie. Grazie a tutti.